Bene, credo che ci siamo un po' tutti, diamo il benvenuto a tutti i presenti, naturalmente le autorità, i giornalisti per questa conferenza stampa di presentazione della BIT Milano 2024. Naturalmente il presidente della regione Marche, grazie presidente, ovviamente il direttore Atim Marco Bruschini, ovviamente i cuochi del firmamento stellato che quest'anno naturalmente omaggiano nel loro menu il gran decigno, il maestro dei maestri Gioacchino Rossini, quindi il firmamento stellato firma i piatti rossignani. Il bon vivant di Rossini che componeva le sue grandi opere dopo aver essere stato grande amatore della cucina. Quindi vado a presentare naturalmente la federazione cuochi e saluto Paciaroni e Baleani. I cuochi, li avremo tutti sei a Milano, ovviamente oggi in rappresentanza ce ne sono quattro, partiamo da Stefano Ciotti Tesaro, il Tiglio, siamo a Montemonaco Ascoli, il Porto San Giorgio sempre presente, naturalmente Retroscena e ovviamente l'Arcade. E quindi saluto rispettivamente Ferracuti e Nikita Sergei. Presidente, poi racconteremo anche i piatti, ovviamente io prima credo una sua presentazione e introduzione. Buongiorno a tutti e soprattutto grazie di essere qua. Un saluto e ringraziamento al direttore Bruschini e a tutti coloro che hanno lavorato nella struttura, la realizzazione del programma Berlabit, un programma molto ampio. Noi ci presentiamo per l'ennesimo anno a questo importante appuntamento nazionale ma che ha un chiaro riflesso anche di livello internazionale, presentiamo le nostre eccellenze, è un trend quello che ci aspettiamo di conferma dei risultati degli ultimi due anni e soprattutto dell'apertura di una stagione del turismo che guarda all'enogastronomia, che guarda alla cultura con più forza, con più vemenza. Quest'anno c'è anche una coincidenza importante, il risultato storico di una città marchigiana, capitale italiana della cultura, è sicuramente un alleato che può portare le marche con più forza nei barcoscenici importanti che contano. Ricordo la presenza della nostra regione e della cucina, la nostra regione a Piazza di Sena nella scorsa estate, all'ambasciata di Parigi a novembre. Quindi occasioni importanti dove le marche diventano protagonisti, con le proprie eccellenze, con le proprie bellezze, con le proprie imprese, con i nostri protagonisti che insieme, tutti insieme, stanno cercando di guadagnarci. Guadagnarci insieme, stiamo cercando di guadagnarci sempre di più un posto nei circuiti turistici che contano. Non basta l'offerta, occorrono i servizi, occorre potenziare la raggiungibilità e l'accessibilità al nostro territorio. Quindi chiaramente i voli aerei, il potenziamento dei collegamenti ferroviari, soprattutto nei confronti dei mercati del nord Europa, la partecipazione e anche in maniera mirata il saper cogliere alcune opportunità che poi saranno presentate anche nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Credo che siano strategie a cui stiamo lavorando e lo stiamo facendo con le categorie che voglio salutare, associazioni di categoria, i corpi intermedi che sono per noi fondamentali perché insieme a loro vogliamo sempre continuare a stabilire e a crescere e a stabilire degli obiettivi sempre più ambiziosi. Saluto anche se non è presente il Presidente della Camera di Commercio Gino Sabatini e con lui andremo la prossima settimana a Sanremo per un'altra grande occasione promozionale. Ecco io sono felice che della nostra regione si stia parlando e credo che quello che ha fatto Atim in questi anni sia importante perché ha raccolto un'eredità e un grande lavoro e lo sta lanciando sempre di più. E dicevo che è importante questo settore perché può dare quello splendore alla nostra regione, quel completamento alla nostra regione che è tanto utile a farci annoverare tra quelle che seppur dotate di un grande patrimonio o no, devono anche dal punto di vista del marketing affermarsi e innalzare il valore consagrandoci definitivamente. È un obiettivo ambizioso ma credo che siamo sulla giusta strada. Lo scorso anno è stato un anno importante di conferma, positivo, mi permetto di dire macchiato un po' dal mese di maggio e di giugno dove c'era una grande attenzione ma purtroppo il clima non ci ha aiutato. L'ennesimo stagione e anche eventi calamitosi hanno dato nell'immediatezza sicuramente problemi nei territori ma soprattutto hanno distolto i grandi flussi dal venire nella stagione preestiva che è una stagione molto interessante perché non è alta stagione ma è una stagione dove iniziano i flussi quelli importanti. Sono stati in quel momento un po' condizionati e anche i numeri sono stati ridotti sicuramente rispetto a quelle che potevano essere le potenzialità. Quindi sperando in una stagione positiva sotto tutti i punti di vista continuiamo a lavorare in questa direzione. La saluto anche la dottoressa Marchigiani che vedo seduta e do una parola a chi c'è dopo. Grazie presidente intanto per aver ricordato la grande cucina marchigiana che si è presentata al mondo in due grandissime occasioni come ha detto lei a Roma e a Parigi. Marco la ristorazione marchigiana la cucina marchigiana il firmamento stellato il 4 febbraio giorno inaugurale della bit di Milano brilleranno le stelle marchigiane per raccontare la bellezza di un territorio unico che dai grandi lembi dei Sibillini fino al Monte Feltro racconta qualcosa di unico di grande specificità e di grande bellezza. Ecco, introduciamo la bit di Milano direttore. Grazie, un grazie sincero agli chef del firmamento stellato perché ci seguono hanno accettato questa sfida di fare una promozione diversa, più dinamica della regione Marche e lo stanno facendo con grande entusiasmo. Io dico sempre questa cosa quando ci è venuta questa idea ho sempre trattato e pensavo di dover trattare gli chef stellati con i guanti con grande attenzione per non suscitare qualche reazione. Invece devo dire che la forza e l'entusiasmo che ci danno è forse addirittura di più di quella che ci avevamo messo all'inizio, quindi grazie di quello che fate. Grazie ai cuochi delle Marche, anche loro ci stanno sempre vicini perché sono i portatori della tradizione, quella vera, quella pura e vedremo questo loro supporto che daranno il 5 con i vinci sgrassi, quindi questo lo possiamo spoilerare, e con la faraona quest'anno, vero? Quindi non ci sarà il coniglio porchettato, ma ci sarà la faraona. Che cosa le Marche vogliono rappresentare alla BIT? La BIT è una fiera importante, una grande vetrina, una vetrina che serve sia a dimostrare quanto le regioni siano dinamiche nel campo del turismo e quindi bisogna presentarsi bene, bisogna mettere il vestito buono, ma soprattutto quali sono le proposte che vogliamo fare a livello di promozione, soprattutto promozione internazionale. Quindi noi abbiamo riproposto e andremo a riproporre lo stand fatto al TTG di Rimini, che è quel plastico lì che vedete. Sarà un po' ridotto nelle dimensioni perché abbiamo deciso di risparmiare fondi per poter andare ad investire questi fondi in eventi all'estero, mirati, per riuscire ad alzare ancora di più la presenza di turisti stranieri nel nostro territorio. Quindi sostanzialmente avremmo uno stand che è come quello lì che vedete, con una indicazione molto forte, questa L che chiude il soppalco, che è quella punta che vedete lì, tipo nave, e avremo il conero, quindi la stessa foto che abbiamo messo, questa L qui. Nella parte inferiore del soppalco avremo questa sorta di museo, avevamo inaugurato l'altro anno con praticamente Giacomo Leopardi, quest'anno ovviamente il personaggio di punta sarà Gioacchino Rossini, quindi anche a voler testimoniare Pesaro, capitale della cultura, e quindi andremo a mettere delle foto di Pesaro e due costumi di scena di questa opera del 1815 di Gioacchino Rossini che si chiama Elisabetta Regina d'Inghilterra. Quindi sono degli abiti di scena di una rappresentazione fatta nel 2004, sono molto belli, di grande effetto e quindi saranno sicuramente di grande richiamo. Stessa cosa che faremo nel menù degli chef stellati, dove poi loro andranno a presentarlo, avremo una entrata, due antipasti, un primo e un secondo, dedicati a Gioacchino Rossini. Quando ci è venuta l'idea, devo dire che gli chef hanno preso molto bene questa cosa, avevano già preparato un menù, l'hanno dovuto stravolgere, però nonostante tutto l'hanno preso bene e quindi faremo questo menù che verrà poi, diciamo così, distribuito con in controluce cinque ricette firmate da Gioacchino Rossini. Quindi stiamo adesso lavorando su questa cosa ed è una cosa estremamente bella perché sarà un piccolo gadget che ognuno potrà portare a casa, c'è scritto firmamento stellato, BIT 2024 e ci sono anche queste ricette fatte proprio direttamente da Gioacchino Rossini. Poi ci sarà, come vedete, l'area talk, che sarà questa volta al centro dello stand. Nella versione del TTG era un'area talk molto light, anche perché avevamo comunque un corridoio centrale, come vedete, dal plastico. Qui invece abbiamo un unico rettangolo e quindi abbiamo potuto dare uno spazio più grande a quest'area talk. Un'area talk che è stata molto, diciamo così, è stata molto apprezzata. Abbiamo fatto in modo molto trasparente, come abbiamo fatto già al TTG, Atim ha pubblicato una sorta di bando, si è riferita alle varie amministrazioni comunali e i singoli comuni hanno potuto praticamente rispondere a questo nostro bando dicendo qual era il tema e chi voleva parlare nel nostro talk. e quindi anche un cambio di stile, non più una cosa così che si veniva a produrre in maniera un po' magmatica, ma in maniera molto, molto aperta, trasparente. Ognuno diceva quello che vuole fare. Abbiamo incastrato, devo dire, con Eleonora e con Isabella, in una quindicina di giorni 51 eventi, 51 conferenze, quindi non è stato insomma semplicissimo, ma in questi 51 panel praticamente saranno coinvolti 85 comuni delle Marche. Quindi diciamo che abbiamo veramente una grande partecipazione di tutte le amministrazioni comunali, questo ci fa molto molto piacere perché significa che ognuno di questi sindaci, ognuno di queste amministrazioni comunali vuole far conoscere cosa farà di eventi e cosa vuole fare di promozione a livello, diciamo così, sia delle Marche, sia nazionale, sia estero. Alla BIT presenteremo finalmente l'agenda Marche, cioè siamo riusciti con sicuramente un grande lavoro a fare finalmente il calendario unico degli eventi. Quindi andremo a presentare questo calendario unico degli eventi che verrà presentato nelle fiere internazionali del turismo. Questo è chiaro che è uno strumento estremamente importante perché far conoscere tre, quattro mesi prima gli eventi che si faranno nel territorio delle Marche è sicuramente qualcosa di molto utile perché bisogna non solo attrarre verso la destinazione ma attrarre anche attraverso una serie di eventi che hanno sempre di più un valore internazionale e una cadenza fissa e quindi possono essere dei punti di riferimento per chi sceglie di venire nel nostro territorio. Abbiamo ridotto quindi lo spazio, abbiamo fatto sia per il TTG che per la BIT due gare quindi non abbiamo più affidato all'allestitore della fiera che ovviamente fa lievitare i costi ma abbiamo fatto delle gare, abbiamo chiesto ad una società di realizzare un progetto, quello sarà lo stand delle Marche con le Z Marche e poi abbiamo messo a gara quel progetto per dare una. Questo ci ha comportato un risparmio in termini economici del 40% rispetto alla BIT e addirittura del 50% rispetto al TTG nonostante abbiamo fatto una contrazione del 30% dello spazio quindi questo ci fa estremamente piacere. Quindi riduzione dello spazio insomma non riduzione degli operatori perché tutti e 40 gli operatori che avevano fatto richiesta, anche lì abbiamo fatto un bando pubblico, saranno presenti nello stand, quindi 40 operatori OTIM e CATIM e quindi associazioni di categoria e praticamente tour operator, poi sono stati realizzati due banchi più grandi, in un banco ci saranno le strutture ricettive e nell'altro i comuni che vogliono presentare, vogliono avere un contatto diretto con i vari tour operatori e quindi scegliere anche delle agende dove c'è il B2B. Una parte poi dedicata sarà dedicata alla città di Pesaro che avrà uno stand suo all'interno dello stand delle Marche, questo è, qui avrete le due postazioni, questa è la postazione dei comuni e questa è la postazione delle attività ricettive e questa sarà la postazione di Pesaro alla fine del percorso museale dedicato a Rossini e all'opera appunto Elisabetta Regina. Quindi qui, si entra qui, si fa questo percorso e si esce verso Pesaro. Quindi mi sembra che, quindi saranno nove strutture ricettive, sei comuni e due comunità montane, quindi diciamo che questo è un, che avranno una sorta di stand all'interno dello stand delle Marche, invece gli altri potranno parlare all'interno dell'area torta. Quindi ci vediamo, i due momenti clou vanno detti, saranno la conferenza stampa, il 4 alle ore 12 sugli sviluppi del turismo che farà il Presidente Acquaroli, ieri abbiamo presentato al Senato la tessera del socio dell'Unione delle Prologo che andremo a presentare anche alla BIT che è stata dedicata quest'anno alle Marche e devo dire che è un prodotto estremamente importante, estremamente valido, che ha già ieri ottenuto i primi, insomma, i primi successi, è stato veramente, ha avuto un feedback estremamente importante. poi a seguire alle 13 sempre alla presenza del Presidente Acquaroli ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Pesaro Capitale della Cultura e poi tutta una serie di vari comuni che andranno a presentarvi, ci sarà un panel molto grande per quanto riguarda il benessere e tutte le sue declinazioni, ci sarà il panel sull'area sisma e sul discorso importante del discorso della rinascita, ci saranno, parleranno tutti i comuni capoluogo di provincia e quindi saranno veramente tre giorni estremamente importanti e estremamente interessanti. Avremo le dirette streaming e una serie di televisioni che seguiranno ovviamente tutto quanto il lavoro e il percorso delle Marche alla BIT. Volevo concludere con un sincero ringraziamento al Presidente Acquaroli per tutto quello che fa per il turismo della nostra regione. Fare l'assessore al turismo insieme a tutte le altre cose, penso alla sanità, penso a tante cose, eccetera, non è sicuramente semplice ma io questo amo dirlo sempre, è un vero assessore al turismo. Attento, segue le campagne di promozione, segue tutto quello che viene fatto ed è sempre vigile sulle scelte che si fanno a livello strategico per un grande legame ma soprattutto per un grande rispetto nei confronti dei marchigiani. Grazie di tutto quello che fai quotidianamente. Grazie. Benissimo, grazie al Presidente, grazie al Direttore. Ecco, il Direttore ha citato molto bene uno spazio dedicato a Pesaro, capitale italiana della cultura, ci dicono che abbiamo in collegamento da Pesaro l'assessore alla bellezza Daniele Vimini, credo Eleonora, siamo pronti. Ecco, Assessore, buongiorno, ben trovato. Buongiorno, buongiorno. Siamo in diretta, naturalmente è bellissimo questa presenza, un saluto alla platea, un appuntamento naturalmente alla BIT di Milano. Sì, grazie assolutamente, mi scuso per non essere presente io di persona, ma la città è rappresentata dai dirigenti, ma in contemporanea avevamo la presentazione di una mostra che dedicheremo da oggi a Mario Logli, che avviene anche con il sostegno della Regione Marche, che ringrazio, quindi uno dei primi eventi, insomma, in cui il territorio marchigiano diventa internazionale, anche nel racconto di Capitale 24. Un saluto, un ringraziamento naturalmente al Presidente Acquaroli, per tutto lo sforzo di collaborazione e di sinergia, anche nella promozione della Capitale 24, ma in realtà anche della Regione Marche, in questo appuntamento fondamentale della BIT. Un saluto naturalmente a Marco Bruschini, e vista l'ora, ma vista anche l'amicizia con molti di loro, anche gli chef, che naturalmente ci introducono un orario particolare della giornata, in cui li pensiamo ancora di più. In realtà sono dei grandissimi ambasciatori, e lo saranno in questi giorni, nello stand, nel padiglione che ha creato la Regione Marche, e mi complimento perché il progetto è veramente bello, compresa questa terrazza, che ormai è diventata un masto, un elemento di riconoscibilità, anche della Regione, negli appuntamenti, e che ovviamente sarà molto ben frequentata dagli chef che vediamo lì. Un'azione di squadra con i comuni, con i territori, lo ha ricordato molto bene Bruschini, noi siamo felici di esserci, naturalmente provando a portare, quello allora aggiunto, che vuole essere per tutte le marche, l'opportunità della Capitale Italiana della Cultura, che verrà raccontata nel DES, che verrà raccontata naturalmente anche dai vari membri, partner nei vari spazi, a partire anche da quello del Rossini Opera Festival, e chiaramente ci sarà un po' di Rossini, insomma, non poteva essere diversamente, nelle scenografie, immagino anche nei piatti, quindi anche per questo ringrazio gli chef per questo sforzo di racconto sinergico, e invito ad arrivare tutti con la barba fatta, ma magari di un giorno, perché avremo anche in determinati momenti un figaro vero e proprio, insomma, che come in molti casi fortunati, anche a casa Rossini, darà la possibilità di fare la barba, e quindi raccontare anche attraverso questa unicità la storia di Rossini, di Pesaro e delle Marche, ma soprattutto appunto raccontare un anno straordinario che coinvolgerà tutte le Marche, siamo molto felici che la presentazione ufficiale venga proprio, diciamo, in coda al momento iniziale con il Presidente, che quindi tutti assieme si possa raccontare al meglio quello che sarà un anno straordinario per le Marche. Grazie ancora per il coinvolgimento, mi scuso ancora per non essere di presente, ho provato a seguire un po' i lavori, e sicuramente sarà una spinta fondamentale in questo momento della programmazione turistica, ai risultati importanti della regione Marche per questo 2024. Bene, ringraziamo Daniele Vimini, Assessore alla bellezza del Comune di Pesaro, e ovviamente un buon lavoro... Scusa... E' facile. Tutti i Gidirini eravamo rimasti... Bene, grazie, grazie Assessore, e ora Presidente cerchiamo di profumare l'ambiente, la sala con la presentazione magari delle ricette rossignane dei vari chef, e ovviamente non possiamo non iniziare da Pesaro. Pesaro, Stefano Ciotti, Nostrano, Stefano, raccontici il tuo antipasto, il tuo stile rossignano che vuoi regalare alla Beat di Milano. Innanzitutto, grazie, grazie mille, e cavalcare l'onda di Pesaro 24 e unire tutte le forze assieme per lo scopo che è unico, far venire la gente nelle Marche e far venire sempre più gente nelle Marche, quindi va bene per tutti, va bene per noi ristoratori, va bene per chi vende le ciabatte, per chi vende le maglie, e quindi ben venga questa grande unione che si è fatta. Io ho pensato di prendere quegli ingredienti che Rossini amava poco, che erano il tartufo e il po' grasso, e quello non ha sbagliato niente, ci ho aggiunto anche un prosciutto crudo buonissimo, quindi ho pensato di mettere questi ingredienti a disposizione di un piatto fresco, quindi andiamo incontro all'estate, io ho un ristorante che è sul mare, e quindi faccio tanto pesce, e anche tanto pesce crudo, quindi ho messo una canocchia cruda con un brodo di prosciutto, un brodo di prosciutto cappone, e poi naturalmente è freddo, le canocchie vengono marinate nella soia, vengono marinate nella soia per pochissimi minuti, e quindi si rassodono e diventano leggermente, avranno una texture un po' più consistente, naturalmente tutte completamente pulite, e vengono servite con dei cubetti di terrino e di foie gras, nel brodo di prosciutto c'è il profumo di tartufo nero, e poi insomma c'è la parte acida, la parte croccante, con tutti gli ingredienti quelli che sto a dirvi a raccontare, il senso del piatto è un crudo di mare con foie gras e tartufo nero. Bravissimo, grazie Stefano, ricordiamo il piatto, minestra di cannocchie crude alla Rossini, con brodo di maiale, tartufo nero e foie gras, e un grande verdicchio dei castelli di Iesi, brut, riserva in abbinamento. Grazie Stefano, passiamo a Isola San Biagio, Monte Monaco, ieri raccontavi undici anime a Isola San Biagio, però anche qui un grande piatto, Chef Enrico Mazzaroni il Tiglio, insalata benedetta al tartufo nero, latte cagliato di capra dei Sibillini, miso di mela rosa e fegato di vitello. Raccontaci brevemente questa esplosione di... Vi leggo una cosa, vi leggo una cosa. Angelica, ti porto a conoscenza e la scoperta fatta in questo mese, un'insalata che può avere pretese di non temere alcuna concorrenza. Devi prendere olio di Provenza, alla quale aggiungerai senape inglese, una spruzzata di aceto francese, olio, pepe, lattuga, e con prudenza del succo di limone. Indi, tagliato un buon tartufo, aggiungere dovrai. Il tutto ben sbattuto e lavorato. Il nostro cardinale, che ha gustato questo superbo piatto, come mai la sua benedizione mi ha inviato. Ecco perché si chiama insalata benedetta e siccome noi avevamo il ristorante aperto, i miei colleghi mi hanno concesso di fare un'insalata. Avevamo il ristorante chiuso, quindi era molto difficile affrontare una cucina vera e propria, ho fatto un'insalata, che mi è venuta a cominciare, mi è cascata a fagiola, a fagiola. Però nella realtà l'abbiamo fatta abbastanza complessa, perché la senape di digione l'abbiamo sostituita con il miso fatto con la mela rosa dei Sibillini, quindi abbiamo preso la mela rosa, l'abbiamo fermentata con il sale, abbiamo fatto questa pasta con cui contiremmo questa insalata, un'insalata che è un'insalata trovata, quindi sono le crispigne, tutto quello che trova, abbiamo preso i cuori di queste insalate e ci abbiamo fatto questa insalata. E a posto dell'aceto, con prudenza, abbiamo messo un latte cagliato di capra che dà l'acidità a questo piatto. E poi, per dare croccantesse, abbiamo fatto una terra tipo con il fegato. Io di solito adopero molto le frattaglie, mi piacciono molto, quindi quando posso le aggiungo e questo è un piatto semplice che speriamo vi piaccia. E grazie ancora per avermi invitato insieme, credo, ai miei colleghi. È un grande onore stare al loro fianco. Grazie, grazie a Enrico Mazzaroni. Ovviamente grande abbinamento di territorio, Falerio Pecorino 2022, quindi grande, grande abbinamento. Andiamo avanti. La bella Porto San Giorgio, due cuochi che naturalmente raccontano la marchigianità nel mondo, ristorante retroscena Pierpaolo Ferracuti, qui naturalmente faraona farcita alla Rossini. Lo devo dire a beneficio dei giornalisti, Rossini nella sua vita pianse solo tre volte. La prima quando gli fischiarono un'opera, purtroppo, credo al San Carlo di Napoli. La seconda quando sentì naturalmente le musiche di Paganini, pianse dalla gioia, dalla bellezza, dalla soavità. Il terzo quando sul lago, componendo e avendo pronto questo, lui chiamava tacchino farcito, di foie gras e tartufo, gli cadde in acqua. Se lo perse per sempre, pianse perché perse un piatto veramente unico e straordinario. Però noi lo porteremo alla bit di Milano, la faraona farcita alla Rossini. Avrei pianto anch'io. No, niente, nelle settimane scorse appunto con Giuseppe ricordavamo questa cosa della caccia al tacchino che poi farciva e aveva perso nel lago e quindi pianse. Allora noi abbiamo pensato di rienterpretare questo tacchino con la faraona farcita. Invece di farcire un tacchino abbiamo fatto un rollé con la coscia della faraona, la parte vegetale dello spinacio classica, il foie gras e il tartufo. All'esterno, la faraona viene cotta lentamente a bassa temperatura. Alla base del piatto abbiamo messo la parte grassa che è la pasta di nocciole. Per ricordare la parte vegetale, un estratto di alloro, gli odori che si mettevano appunto dentro è il tacchino farcito e una salsa di madeira e tartufo nero. Capolavoro. Grazie Paolo della tua esposizione. Sempre a un tiro di schioppo ma sul mare, ristorante L'Arcade, chef Nikita Sergei, anche qui un piatto che lui voleva sempre caldo vicino alle sue preparazioni, con sommè di coda di bue al tartufo nero. Il tartufo, direttore e presidente, è su tutti i piatti, non manca mai. D'altro canto siamo la regione del tartufo tutto l'anno. Prego Nikita. Buongiorno a tutti. Un piacere stare qua. Ringrazio i colleghi, ringrazio le autorità. Insomma, una bella situazione. Io, noi, faccio il cuoco all'Arcade, siamo al mare, finalmente non devo portare nulla di mare e non porterò, porterò una ricetta quasi classica nella sua preparazione, e quindi questo consomè noi ci, come dire, il nostro lavoro è molto centralizzato, molto centrale sulle estrazioni, sul lavoro sui brodi, sulle concentrazioni, lavorazione a freddo, a caldo, insomma, ci lavoriamo da tanto, quindi è anche un modo di far vedere un pochino quello che è il nostro studio in questo momento. Perciò un consomè di coda, di bue, aggiungeremo qualche guancia e nel termine della sostenibilità della situazione non mancherà anche qualche sorpresa con quelli che sono dopo le rimasuglie, quello rimasto, diciamo, dopo la preparazione del brodo, soprattutto in partenza, quindi le carni, quindi qualche bonbon dove andremo ad abbinare un po' di foie gras e un po' di tartufo, va bene, visto che ci sta, perché no? Grazie Nikita Sergeev, grazie l'Arcade, citiamo anche gli altri due piatti naturalmente dei cuochi che comunque non sono presenti qui ma saranno presenti a Milano. Ma sono abbiamente giustificati. Giustificati, sì, sì, giustificati. Ecco, abbiamo comunque improntato naturalmente anche la loro presenza con il piatto, ristorante dalla gioconda Davide Di Fabio, lui ha pensato a un piatto classico, la classica rivisitata, pizza alla Rossini, che naturalmente è, Pesaro ne fa un vanto in tutto il mondo, lui lo ha chiamato pane fritto, insalata di uova al pomodoro, grande vino verdicchio di Mattelica in abbinamento per unire i grandi territori. Infine Andreina, chef Enrico Recanati, cappelletto alla Rossini, con ripieno di vitello arrosto, tuorlo d'uovo, tartufo nero e salsa di fegato grasso. Tre elementi, come diceva Stefano, il tartufo, il foie gras, il direttore, il caviale, queste preziosità, le grandi carni non mancano mai. Questi sono i sei piatti, ovviamente questo la domenica, però anche il lunedì la Federazione Italiana Cuochi porterà la marchigianità nel piatto e nei cuori delle persone che vorranno venirci a visitare sempre a Milano. Prego Valeria. Grazie, buongiorno a tutti, grazie Presidente, grazie al direttore Bruschini e a tutti gli intervenuti. Lunedì presenteremo due piatti, in particolare, uno è il vincis grasso alla maceratese e qui rappresentato appunto dal presidente di Cuochi Macerata, Paolo Paciaroni, che se ci vuole dire... Piacere mio, è un motivo di orgoglio rappresentare un po' la provincia. Siamo un po' neofiti nel palcoscenico di Milano del Bit, ma saremo ben lieti di essere a vostro fianco. Insieme faremo con Simone questi vincisgrassi alla maceratese STG. Stiamo portando avanti questo progetto, siamo tra le 5 STG riconosciute a livello italiano e ci piaceva appunto esporle nel grande panorama appunto delle ex Marche grazie alla regione Marche al Bit a Milano. Grazie Paolo e con... Grazie, complimenti. Con una parte del team Cuochi Marche poi presentiamo anche un altro piatto che è una faraona dedicata appunto a Gioacchino Rossini. Sappiamo la grande passione che aveva Gioacchino Rossini per la cucina, è stato ampiamente detto. Se permettete vorrei citare appunto una frase estratta dal suo epistolario con Carem, il nostro collega cuoco Carem, Parigino, che uno stomaco pieno suona il tamburo della gioia e questo è quello che faremo appunto a Milano, cercheremo di rendere i nostri momenti cibo e conviviali nel migliore dei modi i più entusiasmanti possibili a rappresentare tutta la nostra regione. Grazie. Bravissimo, bravissimo, veramente Presidente, l'ultimo sussulto a lei, sussurro per dire che qui c'è una grande squadra. questo fermamento stellato li stiamo abbracciando veramente tutti e qui ci mettono il cuore, la bellezza, la personalità e credo anche l'idea che la marchigianità attraverso la cucina e il turismo come dicevamo sono biglietti da visita da spendere un po' in tutto il mondo. Un suo saluto finale magari? Diciamo che a quest'ora siamo fatti una violenza di massa è un ringraziamento in realtà perché credo che la responsabilità di promuovere un territorio in un territorio come quello marchigiano che comunque è fatto da un campanile una pluralità non è mai semplice e credo che per il tramite delle ricette delle tradizioni dei vini si riesca comunque a portare tutto il nostro territorio nelle occasioni che ci vengono davanti alle fiere nei momenti di promozione nei momenti diciamo importanti a cui abbiamo partecipato e a cui parteciperemo quindi veramente un grazie a tutti perché se non ci fosse questa disponibilità a collaborare riconoscendo il valore della promozione e anche della forza dell'immaginario che noi riusciamo a dare con questa partecipazione ecco tutto questo non sarebbe possibile e poi guadagnare rispetto in quei contesti è molto importante è importante per noi è importante per chi partecipa ma è anche molto importante per chi non partecipa perché poi i nostri vini i nostri prodotti le biodiversità come dicevo prima i paesaggi vengono scoperti sono rappresentano il territorio di partenza e quindi ogni volta che noi andiamo fuori c'è una curiosità di rientro di ritorno che ha un effetto importante lo dicono i numeri ma soprattutto lo dice l'entusiasmo che si crea e quello è sempre secondo me l'incrediente insieme alla passione fondamentale per raggiungere i risultati quindi veramente grazie del gioco di squadra e della disponibilità bene naturalmente se ci sono domande noi siamo a disposizione però vi aspettiamo tutti nella terrazza Marche con il menù rossignano domenica 4 febbraio buon lavoro a tutti e grazie 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 grazie